Incredibile cattura nelle acque adriatiche della costa dei Trabucchi a San Vito, un polpo verace del peso record di 7,150 kg è stato infatti pescato in apnea dall'esperto sub Luigi Morgione, lancianese, noto alle cronache per aver ritrovato il Cristo degli Abissi nell'estate 2018, qualche settimana prima misteriosamente trafugato dall'altarino 6 metri di profondità in località Vallevò. Luigi Morgione dunque colpisce ancora nella straordinaria passione per la pesca subacquea, armato solo di fiocina, maschera, pinne e ovviamente muta nei mesi più freddi. La mattina dello scorso 6 dicembre, complice una straordinaria giornata di bonaccia, il sub si è imbattuto nell'enorme polpo all'altezza del Trabucco, vento di scirocco, a circa 3 metri di profondità. Il polpo ha cercato riparo tra le rocce e dopo una lunga lotta Morgione è riuscito a metterlo nel sacco. Il polpo verace viene pescato soprattutto da settembre a dicembre, il verace è quello che vive in prossimità degli scogli più richiesto sul mercato dal bel colore marrone con sfumature rosa e polpo verace se ha due fila di ventose su ogni tentacolo, rarissimi gli esemplari che arrivano ai 10 chili.